let's go ce sono power il vostro guardiano preferito e finalmente siamo riusciti a capire a trovare come prendere lo sleeper simulant o simulatore dormiente o simulante dormiente non lo so ancora come si chiamerà in italiano sinceramente ed ecco qui è comparsa una nuova quest sulla terra chiamata il primo firewall fermi 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 ma come poter sbloccare questa quest non ve l'aspettavate questo scherzo dovete prendere degli oggetti missione che si trovano nelle varie piattuglie su marte terra luna ovunque praticamente su tutte le pattuglie mi pare solo nell'astro corazzata non si possono trovare praticamente dovete trovare i dvalin i dvalin sono dei diciamo degli oggetti missione viola che assomigliano all'infinito tascabile o comunque allo sleeper simulant lo riprendo ne dovete trovare ben 4 per trovarli come si fa si trovano in pattuglia o in assalto nelle zone dove comunque ci si scambia con la pattuglia praticamente questi dvalin si troppano random dai mob sono 4 più giocate più avete possibilità di tropparli perché l'altra volta avevo un pg con cui ho fatto solamente assalti mi pare e raid non ho fatto praticamente niente pattuglia e mi sono capitati facilmente 4 dvalin quindi per prenderlo dovrete fare questa cosa facilissima cioè andare in pattuglia prenderò pari dvalin e via e poi vi si triggererà la quest il primo firewall ma via passiamo subito alla missione bene questa missione è una missione che potete fare in solo con amici semplicemente dovrete entrare dentro il bunker di rasputin e dovrete andare nella zona dell'arena dove tanto tempo fa per chi ha giocato i vecchi dlc si trovava Omnicul che lo incontravate in quella sorta di arena e poi scappava via andate lì partirà da sola la quest si triggererà da sola arriveranno qualche ondate di cavalieri sinceramente molto facili da fare e infine un boss da uccidere esponeranno nemici in continuazione mentre ucciderete questo boss quindi ovviamente focalizzatevi su di lui e trituratelo una volta ucciso il boss dropperemo la rice trasmittente curiosa questo item lo potrete trovare nell'inventario sotto negli oggetti missione e premendo triangolo su questo oggetto vedrete che ci saranno dei bottoni da premere c'è una sequenza da fare che vi illustrerò qui ora mentre mi state sentendo chiacchierare utilizzate queste sequenze sono 4 in totale da fare e vi comparirà un'altra quest sempre da fare sulla terra in questo caso la dovrete fare da soli e a livello 270 chiamata delle ombre si chiama e dovrete tornare nel pinnacolo dei diavoli in questo caso da soli sarebbe pinnacolo dei diavoli quella zona del cosmodromo in cui dovete fare la quest dove Kaide vi manda a prendere il sistema stealth per cercare di andare sull'astro corazzata avrete 4 minuti per salire ovviamente ragazzi schippate tutti i nemici in continuazione tranne questa maliarda che vi faccio vedere perché fa sponare mille praticamente schiavi corrotti e quello che dovete fare voi è prendere un uccidere la maliarda prendete comunque qualche secondo mentre la uccidete arriveranno i mille schiavi corrotti vi tirate una granata sotto i piedi o comunque correte via come ho fatto io arrivate in cima ci sarà una sorta di cassa aprite la cassa non c'è niente in questo caso sponeranno 3 maliarda che 2 corrotte e 1 non faranno sponare vari nemici eccetera eccetera trituratele tutte e 3 con le vostre armi più potenti tanto ora livello 270 pochissime persone lo sono quindi lo distruggerete questa sorta di impresa da solo bene una volta fatto sbloccherete il nucleo per il diciamo per lo sleeper simulant lo sleeper simulant una volta preso questo nucleo dovrete fare 5 cose allora smantellare un'arma pesante fare la missione nell'archivio di Ishtar su venere e qualsiasi difficoltà non c'entra niente e poi fare 3 eventi pubblici di difendere i warsat quindi cercateli sulla terra su marte su venere mi pare sia l'altro come fare queste 3 missioni facilissimo ragazzi se andate su destiny public events su google scrivete questo come vi ho detto io e ci sarà una lista di dove stanno partendo gli eventi quali eventi e quanto tempo manca a ciascun evento ricordate che gli eventi possono spawnare anche se sono a meno 6 minuti cioè non sono arrivati a 0 quindi aspettate tra 0 e meno 6 minuti che spawni l'evento in quella zona così sarà molto facile per voi riuscire a prendere completare scusate il nucleo dello sleeper simulant e riattivare quelle che sono le memorie di Banshee che sarebbe l'arma Iolo una volta fatto questo consegneremo andremo da Banshee di nuovo e quello che penso io è che lo sleeper simulant si possa prendere penso mercoledì prossimo settimana prossima al prossimo giorno delle armi io spero vi sia piaciuto questo video quindi rimanete sintonizzati qui sul canale per vedere quando ci sarà lo sleeper simulant quando si potrà ottenere io vi saluto al prossimo video grazie a tutti